Approvato un emendamento alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020-2022 in cui si stanziano fondi per prevedere azioni di contrasto alla diffusione degli insetti dannosi alle colture frutticole. 4,5 milioni di euro in tre anni. In pratica lotta aperta alla cimice asiatica un insetto che secondo i dati forniti dall'associazione di categoria ha provocato in Veneto danni per 100 milioni di euro. Viene definito quindi un piano complessivo delle misure da intraprendere. Dopo una fase di studio e di ricerca si passa dunque alla sperimentazione e al sostegno alle imprese. Soddisfazione espressa anche dagli agricoltori che attendono ora l'introduzione degli antagonisti naturali della cimice, le vespe samurai.